E voltiamo pagina agli incidenti per i botti di fine anno. Sono 79 i feriti in tutta Italia. Bilancio decisamente meno pesante rispetto allo scorso anno quando i ricoverati erano stati 204. Ad Asti un tredicenne è morto per lo scoppio di un petardo. A Napoli una donna è stata ferita da una scheggia. Seguiamo Giovanna Cucè, poi Lorenzo Santorelli. Stava raccogliendo da terra un petardo, poi... Stava raccogliendo da terra un petardo.